Benvenuti su trebimeteo.com. Martedì è l'insena dell'instabilità, soprattutto sulle regioni adriatiche e parte del sud, a causa di una circolazione depressionale in quota che transiterà appunto tra il centro e le aree del sud del nostro paese. Ampie schiarite invece altrove, ma vediamo tra poco tutti i dettagli. Iniziamo nel frattempo partendo dalle temperature minime che saranno in deciso calo, soprattutto al nord, senza variazione di rilevo al centro-sud. Per quanto riguarda quelli massimi avremo un deciso abbassamento lungo tutto il versante adriatico, mentre avremo un lieve rialzo sul medio-alto versante tirrenico e sulle regioni di nord-ovest. Il dettaglio previsionale riferito alle regioni settentrionali evidenzia un rapido miglioramento a partire dai settori nord-occidentali del nostro paese dopo il peggioramento avvenuto nel corso di lunedì. Resisterà invece della nuvolosità sparta soprattutto ad est con rovescio ed anche qualche temporale fin dal mattino che persisterà anche al pomeriggio su Friuli e Romagna, ma con tendenza poi al rapido miglioramento nel corso della serata. Andiamo a vedere il dettaglio previsionale riferito alle regioni del centro dove avremo ampie schiarite a partire dall'alta Toscana in estensione poi alla rimanente costa tirrenica, mentre avremo spiccata instabilità lungo la dorsale apenninica e sul versante adriatico dove avremo diffusi acquazzoni anche a carattere temporalesco. Passiamo alle regioni del sud dove avremo una spiccata variabilità tra Molise ed Irpinia dove non mancheranno rovesci ed anche qualche temporale al pomeriggio, variabilità diurna anche su Sila ed interne sicule, ma attenzione perché avremo un ulteriore peggioramento in serata a partire da Molise ed alta Puglia. Bel tempo prevalente sui settori occidentali della Sardegna mentre avremo una variabilità lungo le coste orientali dell'isola con il rischio di acquazzoni ed anche qualche temporale. Ulteriori dettagli come di consueto su trebimeteo.com es una